Pacchetto numero 6 Ciao Il Natale sta arrivando, avete trovato il regalo giusto? Vi aiutiamo noi, siamo Margherita e Giulia e abbiamo un sogno nel pacchetto per tutte le bambine che amano le principesse Disney e il mondo Disney Frozen Leggiamo la richiesta di oggi La mia nipotina Bea mi parla sempre delle principesse Disney e vorrebbe sapere tutto di loro Che regalo mi consigli? Pacco pacco del mio Natale Ecco un regalo perfetto per scoprire mille segreti da raccontare Con l'abbonamento al magazine delle principesse Disney le storie non finiscono mai Ogni mese troverai giochi, pagine da colorare tantissime sorprese e anche racconti Con questo regalo Bea potrà conoscere tutto sulle principesse Disney e raccontarti ogni giorno qualcosa di nuovo Ecco qui Desiderio Express in arrivo Ci vediamo al prossimo sogno nel pacchetto Ciao! Pacchetto numero 7 Mia nipote Francesca adora il sole come Olaf ma non ama stare al buio Cosa posso regalarle? Pacco pacco del mio Natale Ecco un regalo perfetto per... Con la luce giocare La luce amica Philips di Disney Frozen si accende dolcemente nella tua cameretta È portatile e super morbida proprio come Olaf Questo regalo farà compagnia Francesca che fuori ci sia sole o luna La sua cameretta sarà sempre illuminata Ecco qui Desiderio Express in arrivo Ci vediamo al prossimo sogno nel pacchetto Ciao! Pacchetto numero 8 Mia figlia Alice sogna di diventare una stilista e disegnare un vestito bello come quello di Cenerentola C'è un regalo che possa aiutarla? Pacco pacco del mio Natale! Ecco il regalo perfetto per... Disegnare un vestito da ammirare! La lavagna luminosa Clementoni di Cenerentola ti permette di creare un look come quello della principessa Con tanti disegni da ricalcare e pastelli per colorare Con questo dono Alice si potrà ispirare allo stile di Cenerentola E disegnare un vestito che tutte le sue amiche vorranno indossare Ecco qui Desiderio Express in arrivo Ci vediamo al prossimo sogno nel pacchetto Ciao! Pacchetto numero 9 La mia corellina Sara adora le canzoni di Anne d'Elsa di Disney Frozen E ogni volta che guardiamo il film canta a scorciagola Come posso farla felice? Pacco pacco del mio Natale! Ecco il regalo perfetto per... Continuare a cantare! Il Cantatù Giochi Preziosi di Disney Frozen Ti permette di cantare sulle note delle bellissime canzoni del film Con un vero microfono e tantissime basi da scaricare Con questo regalo Sara potrà divertirsi a cantare ogni volta che vorrà diventando sempre più brava Ecco qui Desiderio Express in arrivo Ci vediamo al prossimo sogno nel pacchetto Ciao!